Si parla di sovranismo, occorre anzitutto rilevare il fatto che l'ismo che accompagna questo termine non è affatto neutro. Come spesso accade gli ismi vengono impiegati per delegittimare l'oggetto a cui si riferiscono e in effetti oggi si parla di sovranismo per lo più in termini negativi perché il discorso gestito dai padroni della parola viene puntualmente utilizzato per delegittimare il sovranismo e favorire invece l'altera pars che è la globalizzazione, assunta essa stessa come intrinsecamente buona e positiva, quasi come se il sovranismo fosse una minaccia per il buon andamento della mondializzazione o globalizzazione che dir si voglia. Propongo di rovesciare le grammatiche e di pensare altrimenti anche su questo tema. Se dovessi definire il sovranismo direi anzitutto che di sovranismo si parla solo da non molti anni a questa parte e lo si fa nella misura in cui il ritmo della globalizzazione solo da alcuni anni a questa parte ha apertamente dichiarato guerra alle sovranità degli stati nazionali e l'ha fatto in ragione del fatto che dopo il 1989 il nemico principale della classe dominante capitalistica liquido finanziaria è lo stato sovrano nazionale. Dopo il 1989 infatti resta un'ultima realtà da aggredire per i padroni del mondo, per i signori della globocrazia sans frontier, che sono appunto gli stati sovrani nazionali come ultimi spazi, ultimi fortilizi e mi piace dirlo all'interno di un castello nel quale ci troviamo, ultimi fortilizi di resistenza rispetto alla globalizzazione capitalistica. In sintesi l'assioma su cui si fonda il discorso dominante è il seguente. I padroni del discorso al servizio dei globocrati, dei signori del capitale liquido finanziario senza frontiere, dicono che occorre superare gli stati sovrani nazionali per evitare le guerre, i conflitti e tutte le tragedie che hanno attraversato il secolo breve. In realtà il loro larvato obiettivo è quello di superare le democrazie e i diritti sociali che soli sono esistiti negli spazi delle sovranità nazionali. Non esiste nella modernità alcuna forma di democrazia che non sia fiorita all'interno dello stato sovrano nazionale. Proprio come la democrazia greca, per quanto imperfetta, esistette solo nello spazio della polis, così lo stato sovrano nazionale è stato il solo ambito, il solo locus reale delle democrazie. Ed è per questa ragione che oggi i globocrati ogni volta che superano gli stati sovrani nazionali superano gli spazi delle democrazie. Ogni qualvolta si è prodotto il teorema dell'accessione della sovranità si sono avute emorragie di diritti sociali e di democrazia. L'Unione Europea è da questo punto di vista l'emblema di quanto sto dicendo. L'Unione Europea è di fatto un processo di spoliticizzazione teso a esautorare le democrazie nazionali per favorire una repressiva tecnocrazia post nazionale. L'Unione Europea come superamento degli stati sovrani nazionali implica di fatto un transito post democratico che fa sì che il centro delle decisioni si trasli dai parlamenti nazionali ai consigli di amministrazione post nazionali, che il primato passi dal politico nazionale al sistema bancario post nazionale. L'Unione Europea è in fondo una banca, nulla più. Dietro la civiltà europea nell'Unione Europea non resta più nulla, resta soltanto il fiscal compact e la decisione dei mercati a poli di liquidi e finanziari. Ecco qual è il punto fondamentale. Il conflitto oggi è fra sovranità o barbaria, fra sovranità come baluardo delle democrazie e dei diritti dei popoli da una parte e dominio liquido finanziario dell'elite cosmopolitica degli incappucciati della finanza. Ora questo direi che è il presupposto basico per comprendere il conflitto fra sovranismo e cosmopolitismo globalista o globalizzazione, che dir si voglia. Potremmo dire in sintesi che lo Stato sovrano nazionale può essere socialista e democratico, può esserlo, non sempre lo è Stato, può esserlo. L'economia post nazionale non può essere intrinsecamente né socialista né democratica. Sarà sempre solo il trionfo della classe dominante, usurocratico e finanziaria, che vuole appunto neutralizzare lo Stato nazionale per neutralizzare la possibilità del controllo dei popoli sulla loro vita nazionale. Il conflitto è oggi tra, come ha scritto un importante testo uscito in area anglosassone, il conflitto è fra la national autonomy e la financial openness. Questo è il conflitto oggi nella lotta di classe di cui siamo oggi protagonisti, la lotta di classe al tempo del populismo, come l'ho chiamata. Poi naturalmente il sovranismo è del tema che rapidamente chiudo in poche battute che hanno semplicemente la volontà di essere una pista per riflessioni ulteriori. Poi naturalmente lo Stato sovrano nazionale si può gestire in molti modi. Lo Stato sovrano nazionale può gestirsi alla maniera socialista o può gestirsi alla maniera liberista. Anche oggi nel fronte dei sovranisti, e ripeto, il sovranismo è condicio sine qua non per il recupero dei diritti e della democrazia, per il recupero della parola ai popoli, la parola dei popoli e alle sovranità nazionali. Il sovranismo si può declinare o alla maniera keynesiana, come sovranismo sociale, se vogliamo dire così, dei diritti sociali e delle democrazie, o si può declinare alla maniera tacceriana, ad esempio, il sovranismo in un solo paese, il liberismo in un solo paese, alla maniera tacceriana. Sono maniere diverse di intendere il sovranismo, molto diverse, direi antitetico-polari fra loro, che però abitano lo stesso spazio del sovranismo oggi e che chiedono naturalmente di essere distinte fra loro, sono molto differenti. Se dovessimo tracciare la differenza basica, voglio dire, all'interno del campo del sovranismo, la traccerei secondo queste due formule, che mettono capo a due diversi modi di intendere lo Stato. Si può intendere il sovranismo alla maniera liberista o alla maniera socialista. La maniera socialista implica l'idea del governare il mercato, la politica che governa il mercato, lo Stato che amministra il mercato impedendo che il mercato diventi meccanismo autoreferenziale. e lo chiamo governare il mercato. La maniera liberista è quella invece che compendio nella formula governare per il mercato, dove certamente vi è la sovranità dello Stato nazionale, ma si governa non il mercato, ma per il mercato. È la classica concezione dello Stato alla maniera liberale. Queste sono due diverse modalità che mettono capo a due diversi modi di intendere il sovranismo. Quello che però è fondamentale, a mio giudizio, al di là di questa differenza pur decisiva, è che non può esserci democrazia, non può esserci diritto sociale, inteso in senso generale, se non si riappropria della sovranità nazionale. Ecco perché la classe dominante cosmopolitica è in quanto tale antisovranista, è in quanto tale antisovranista, mira a destrutturare con le sovranità nazionali i diritti e le democrazie. Solo in seconda battuta può riorganizzarsi all'interno dello Stato nazionale in direzione liberista, ma questo è un altro discorso che magari riprenderemo.